vi presentiamo romantica la nuova collezione arredo classic l'evoluzione dello stile classico con eleganza e stile proietta le sue forme in una visione moderna le decorazioni e i frigi in bagno oro 24 carati sono in perfetta armonia con finiture marmo di carrara più contemporanee il contrasto materico tra i fianchi sagomati in noce opaco e le finiture marmo lucide enfatizzano l'originalità e il pregio della collezione